Dimmi se senti addormentare la mano. Più rilassa. Adesso. Ok, quali dita sei di addometri più? In questa è le quattro dita. Le quattro dita. Fai un'ispirazione profonda. Trattini l'aria. Si sta domandando di più. Fuori l'aria. Sempre le quattro dita. Anche il pollice. Tutta la mano. Tutta la mano. Giù. Ah, metti il grattimo mancio su. Stai giù rilassata. Tieni le braccia giù. Rilassare. Vieni un attimo qui indietro. No, no, tu lascio qui. Vieni un attimo. La spalla di tutti due se ci riesci. Vieni. Ok. Differenza tra la spalla destra e la spalla sinistra. la spalla destra sta più in avanti rispetto alla sinistra. Adesso andiamo a palpare il piccolo pettorale che probabilmente c'è una tensione sul piccolo pettorale. Quindi, la metto sotto. Andiamo a palpare questa zona. Ema tu lì mi sia dolore. E se senti braccio addormentare qui. Ok. Adesso sono sulla terza costa. Oh, bene. Fa stile qui? Sì. Sì, tira anche il mignolo. Comincia da venire. Ok. Un piccolo pettorale tenso. Dimi se puoi vestire. Sì. Ok, sul clavio. Dimmi qua. Ognun volta che ti faccio intervento. Sì. Ok. Ac. E qui. Finito intervento. Sì. MC. E la zona del piccolo pettorale, già l'avevamo trovata prima. Ok. Ok, adesso facciamo una tecnica modificata da me del piccolo pettorale. Quindi facciamo un tilt anteriore della scatola. Tengo le coste. Quindi sono più o meno sulla quinta, sesta e settima costa. E approssimo la parte scapolare alle coste. Ok. E ma tu dimmi se hai fastidio in questa posizione. Se senti il braccio che si addormenta, non dovresti avere fastidio, anzi dovresti avere sollievo in questa posizione. Ok. Adesso invece no. Adesso per rientrare il problema, tanto male, basso la presa al massimo. Qua stiamo alla ricerca del tipo di gestione. Ok. Passati 90 secondi. Ritorniamo lentamente in posizione. Adesso metti di sopina. Adesso facciamo la tecnica di sopina. di sopina. Mi metto lì. Allora qua. Dimmi la regola. Lascia andare. Senti sempre fastidio così? Sì. Tu lascia il braccio. Dimmi così. Fossidio? Alle mani? No. No, ma con questo punto. No. Stai punto? Fai lì. Sì. Quanto prima? Ssssss. Ciao. Lascia. Sì. 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 Di meno. Sì. Sì. Tu lascia andare tutto eh? che te lo prendi io. Tu. 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 se vuoi fastidio se ne hai quanto prima adesso adesso metti di serata è una grande fune piano girati da una superante la più barata salire su un braccio così io posso dare torino a sé la prima sessione di metà la mano no No, questo ovviamente deve fare una risistemazione dei meccatici. Si è allungato, si è allungato prima, in questa posizione, i primi secondi già vi fastidio. Proviamo con la respirazione forzata, prendi un attimo di aria, trattini, tu lascia andare i bracci e proviamo lì. Come si fa? Si sta addormentando, però molto o molto meno? Meno rispetto al miglioro? Molto. Solo un pochino di miglioro. Il pollice è libero, l'indice è il medio, forse è da nullare di miglioro, ma pochissimo. Già da nullare è molto di meno. Ok, perfetto. Grazie. 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 Grazie.